Incidente nella serata di mercoledì 16 dicembre, poco dopo le 21.30, sull'SP13 a Busano. A scontrarsi frontalmente una Peugeot 207 condotta da una trentenne di Busano e una Fiat Panda con a bordo un 35enne di Vaudo Canavese. L'impatto è stato quanto violento. Sul posto sono intervenuti i 118, i carabinieri di Rivara del nucleo radiomobile di Venaria e il sindaco Gian Battistino Chiono. La ragazza, soccorsa ai sanitari, è stata trasportata all'ospedale di Ciriè, non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della Panda, la dinamica al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.